Scade domani a mezzogiorno il termine per la presentazione delle candidature a sindaco e delle liste dei candidati al Consiglio Comunale per le amministrative 2019 del prossimo 28 aprile. Sono cinque i comuni agrigentini chiamati al voto. Per l'elezione del sindaco e del Consiglio Comunale andranno alle urne i cittadini di Narora, Calmuto, Sant'Elisabetta, Caltabellotte e Alessandria della Rocca. Sono tutti comuni con meno di 15 mila abitanti e dove pertanto si voterà con il sistema maggioritario a turno unico. Non ci sarà dunque alcun ballottaggio e sarà eletto sindaco il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Lo scrutinio inizierà alle ore 23 di domenica 28 aprile subito dopo la chiusura dei seggi. Sono in totale 26 mila ottantuno gli elettori agrigentini chiamati alle urne. Il comune più grosso e racalmuto con 8 mila 345 aventi diritto al voto e dove il sindaco uscente Emilio Messana. Segue Naro con 8 mila 103 elettori. Qui il sindaco uscente Calogero Cremona. 3 mila 907 gli elettori di Caltabellotta dove ci riprova il sindaco uscente Paolo Segreto sostenuto dalla lista civica liberamente Segreto Sindaco. Cittadini alle urne ad Alessandria della Rocca, comune commissariato dove al voto andranno 3 mila 118 elettori. Chiude l'elenco il più piccolo dei comuni agrigentini chiamati al voto, Sant'Elisabetta con 2 mila 608 elettori e dove il sindaco uscente è Domenico Gueli. In totale sono 36 in tutta la Sicilia i comuni interessati dalle amministrative 2019. Tra questi anche cinque comuni della ex provincia di Trapani, Castelvetrano, Mazzara del Vallo, Calatafimi Segesta, Salemi e Salaparuta. Castelvetrano torna dunque alle urne dopo che il comune è stato sciolto per mafia nel giugno di due anni fa. Una tornata elettorale preceduta dal terremoto politico provocato dalla recente operazione Artemisia su una presunta loggia massonica segreta. Sei i candidati a sindaco Enzo Alfano per il Movimento 5 Stelle, Davide Brillo per Fratelli d'Italia, Pasquale Calamia candidato a sindaco del Partito Democratico, l'ex presidente del Consiglio Comunale Calogero Martire sostenuto da due liste civiche, Vitalba Pellerito, anche lei a capo di un progetto civico ed infine Antonino Giramita, espressione del locale circolo della Lega.